E' stato girato nel Cilento e presentato al Festival di Torino il cortometraggio di Felice Antignani dal titolo Senza Tempo. E' ambientato nei comuni di Ascea, Casalvelino, Miniano Scalo e Camerota, a parte alcune scene girate a Milano. Io sono originario della provincia di Napoli, però da sempre vengo in vacanza qui nel Cilento, tra Casalvelino ed Ascea. Sono molto legato al territorio e quindi ho poi scritto questa storia che ho voluto interamente ambientare qui. E onestamente non ho mai preso in considerazione altri possibili territori per ambientare questa storia. Ecco, che cosa è venuto fuori? Che cosa ci racconta il tuo lavoro? Allora, il mio lavoro è il terzo in ordine cronologico, il terzo cortometraggio che faccio da regista e sceneggiatore. E' sostanzialmente un noir, una storia che parte da Milano e arriva nel Cilento. E' l'esecuzione di un piano molto preciso, dettagliato, con delle fasi scadenzate. Però poi all'interno dell'esecuzione di questo piano ci sono delle deviazioni, delle deviazioni emotive più che narrative, che appunto coinvolgono e riguardano il protagonista della storia. Ecco, senza tempo è il titolo. Senza tempo, sì. Senza tempo come privazione, quindi inteso come mancanza di tempo, ma anche senza tempo appunto inteso come immutabilità, intangibilità, come tempo che appunto non cambia le cose. Che cosa ti ha colpito del nostro Cilento? Beh, il Cilento per me è casa. Io qui sono cresciuto, ho trascorso esattamente tutte le mie estate da quando sono nato e tutte le mie prime esperienze le ho fatte qui, quindi la considero casa, è un legame col territorio indissolubile. Ora l'hai presentato al Festival di Torino. Sì, l'ho iscritto lì, siamo in attesa di ricevere gli eventuali risultati per la selezione, sperando che venga selezionato e poi come tutti gli altri cortometraggi finora fatti farà il suo percorso internazionale, il Festival di Torino internazionale, magari verrà commercializzato poi all'esito. Il set è durato sei giorni, ho lavorato con persone qui del luogo, ad eccezione il direttore della fotografia che è la persona con cui lavoro da sempre a Milano. Abbiamo allestito sostanzialmente il campo base, chiamamolo così, a casa mia, a Marina di Ascea e abbiamo condotto alcuni giorni di riprese panoramiche e poi abbiamo lavorato con gli attori. Attori, attore protagonista che è pugliese, la coprotagonista, l'attrice coprotagonista da Roma e abbiamo allestito il set per sei giorni appunto di riprese. E quali comuni hai coinvolto? I comuni coinvolti sono stati Ascea, abbiamo girato Marina di Ascea, Marina di Casalvelino al Parco Velini sul mare, abbiamo girato sulla spiaggia del Mengardo, località quindi Camerota, lì comune di Camerota, abbiamo girato a Domignano Scalo, quindi questi sono stati sostanzialmente i comuni del Cilento coinvolti nelle riprese. In attesa della risposta dal Festival di Torino, intanto hai già avviato una bella collaborazione con il comune di Vallo. Esatto, sì, abbiamo intavolato questo discorso sulla possibilità di proiettare senza tempo qui nel Cilento, di fare la premiere, quindi la prima proiezione qui nel Cilento a Vallo, esattamente a Vallo, durante il Natale Vallese, per cui nei giorni sostanzialmente di Natale, di Capodanno. Io ci tengo molto a che la premiere appunto avvenga qui e poi in un secondo momento lo presenterò a Milano. Gli altri lavori sono stati presentati in anteprima in premiere appunto a Milano, mentre ci tengo che senza tempo abbia la sua prima proiezione cinematografica qui nel Cilento. Grazie.